La scuola prepara alla vita, ecco un progetto di educazione civica che ormai è nato da qualche anno con sempre maggior successo ed è quello del patentino dello smartphone, perché usare il cellulare è una bella cosa ma bisogna saperlo usare bene, è vero professor Soressi? Certo, ma vale un po' per tutti gli strumenti perché se noi pensiamo all'acqua, l'acqua può essere morte e senza l'acqua non c'è la vita, ecco noi prendiamo atto che questi strumenti oramai fanno parte della vita quotidiana dei nostri ragazzi e il nostro compito è quello di valorizzare gli aspetti positivi che questi strumenti hanno, pensiamo anche a quello che è capitato in questo ultimo anno di pandemia, alla funzione positiva che hanno avuto questi strumenti interattivi, Si tratta però di utilizzare bene queste potenzialità perché al tempo stesso esistono anche dei rischi, questo nostro percorso di patentino vuole coinvolgere i ragazzi direttamente e renderli responsabili, dai ragazzi abbiamo sempre avuto delle risposte positive e sappiamo che anche in questo campo sarà così Quanti sono gli studenti che hanno partecipato a questo progetto e come si è svolto? Allora, il progetto coinvolge le classi prime e le classi seconde della secondaria, quindi ragazzi di prima e seconda media per intendersi, ecco l'aspetto interessante è che molte parti vengono svolte con la peer education, cioè sono i ragazzini a trasmettere ai loro compagni quelle che sono le informazioni acquisite nell'anno precedente E' importante la collaborazione tra la Polizia di Stato e la scuola? Assolutamente, è un'iniziativa che ormai va avanti da qualche anno in collaborazione con gli istituti scolastici e con la provincia del VCO e vede la Polizia di Stato impegnata in questa campagna di sensibilizzazione sui rischi che sono legati al mondo social, sui rischi che sono legati all'utilizzo del cellulare sul mondo social e che ha visto un grosso riscontro nei ragazzi, una grossa partecipazione, un grosso entusiasmo e il superamento di un esame finale che oggi vede la sua consacrazione nella consegna, in questa breve cerimonia di consegna di un attestato Grazie